Buonasera e ben trovati ad una nuova edizione del telegiornale di Rieti Life. Tutta l'informazione di Rieti e Provincia su rietilife.com, Facebook e Instagram. La superstrada Rieti e Terni ora è davvero completa. A martedì 19 aprile sarà rimossa la rotatoria provvisoria all'imbocco della Galleria Valnerina, lato Rieti. Una rotatoria che è stata più volte segnalata come rischiosa a causa della forte velocità dei veicoli in uscita dalla galleria, che incontrano l'ostacolo solo all'ultimo momento. Con l'ultimo tratto della superstrada e gli svincoli si chiude così un'opera che Rieti e Terni attendevano, definita da anni. Scendono ancora i contagi Covid nel reatino. Nell'ultimo monitoraggio diffuso dall'Asl di Rieti 184 i nuovi casi e 314 i guariti, con gli attuali positivi in tutto il territorio provinciale che scendono a 2.597. Curva epidemiologica in discesa pure in città. L'ultimo bollettino segnala 64 nuovi casi a fronte ai 121 negativizzati al tampone di controllo. Vaccini anche sotto le feste di Pasqua, il centro vaccinale Rieti Città Ducale e Exbosi sarà aperto anche domenica con orario 8.14, mentre il drive-in per l'esecuzione dei tamponi sarà aperto il lunedì dell'Angelo con orario 8.11. È morto giovedì sera all'età di 81 anni dopo aver combattuto contro una malattia Bruno Brunetti. La prima pizzeria dinanzi al mercato coperto, poi lo storico primo fast food della città in Viale Maraini. Infine, oltre alla pizzeria all'interno del mercatone, oggi Conforama, l'ideazione della catena di pizzerie col marchio Eurofocaccia. L'ultimo saluto domani alle 10.30 nella chiesa di Maglianello Alto. Pasqua e Pasquetta col sole nel Riatino, sabato, nuvole e pioggia, prima di due giorni di festa con temperature fino a 17 gradi centigradi. Oltre un milione gli italiani che sceglieranno le scampagnate per il lunedì dell'Angelo, ma per i Riatini che non si accoderanno, tante cose da fare in città, come ad esempio la mostra di De Chirico a Palazzo Dosi, aperta sia Pasqua che Pasquetta. Su Rieti Life Prepress tutti i consigli e le informazioni per passare le feste in città e domenica alle 10 su RietiLife.com, Facebook e Instagram gli auguri del Vescovo Domenico Pompili. E a proposito di Pasqua, torna il venerdì santo di Contigliano. Questa sera, dalle 20.30 e le 21, dopo due anni di stop, il cambio del parroco. Via Don Ercole è arrivato Don Roberto. Riecco la processione più amata e sentita in paese e fuori. Fermento in paese da diverse settimane. La scorsa settimana c'è stata la fiaccolata per la pace guidata proprio da Don Roberto. Sabato santo col basket per Rieti, che si gode l'anticipo serale della 27 giornata. Alle 20.30 la Real Sebastiani ospiterà al Palazzo Giurner l'Andrea Costa Imola. Per quanto riguarda noi, dice coach Alex Finelli, in questa fase pensiamo molto a trovare e migliorare la nostra identità e la nostra condizione fisica in funzione della post-season. Oltre all'inserimento di giocatori come Maganza e Gerzetti che si sono aggiunti nell'ultimo periodo. Una puntata speciale quella di questa sera di Music Garage. Ospite il musicista reatino Raffaele Mirabella, con lui un viaggio nei suoni delle tastiere vintage. Conduce Simona Martellucci, regia di Massimiliano Mirabella. Appuntamento alle 21 su rietilife.com, Facebook e Instagram. Era questa l'ultima notizia del telegiornale di Rieti Life che torna martedì alle 20.45. Sotto le feste tutti i nostri siti a partire da rietilife.com resteranno aggiornati. Il free press oltre a domani tornerà mercoledì nelle edicole nei punti di distribuzione. A tutti i nostri lettori e ascoltatori, buona Pasqua.